Ci aveva neppure invitato, ne ufficialmente ne avevo ricevuto una telefonata, avevo detto mandiamo una delegazione perché è giusto, hanno invece annunciato che vogliono introdurre anche per chi è accusato e giudicato come evasore fiscale oltre 50.000 euro, possono essere tutti perché i 50.000 euro possono anche essere quelli che uno ha messo insieme come evasione secondo loro in cinque anni, quindi chiunque può essere preso con questa formula, allora adesso hanno attaccato al nostro diritto di essere partecipi della democrazia e quindi il giorno 19 sarò anch'io in piazza per protestare contro questo governo e contro questi annunci che sono lesivi di un nostro fondamentale diritto che è il diritto di di libertà. Allora...